Ciao da Valentina e? Giorgia. Bentornati a Deppo? Fatto. Oggi faremo dei lavoretti insieme a Giorgia con le mollette di legno. Vogliamo fare qualcosa di carino? Sì. E cosa vogliamo fare allora? La farfalla. Questa qui? Sì. Ok, cominciamo? Sì. Perfetto. Come prima cosa prendiamo la nostra molletta di legno e dipingiamola. Giorgia, di che colore la vogliamo fare? Rosa. Ok. Dipinta la nostra molletta, la dobbiamo far asciugare per qualche minuto. Adesso passiamo ad attaccare gli occhietti, che sono questi qui, il nasino che lo possiamo mettere con un mini pompon colorato e le antenne, le antenne della farfalla. Le mettiamo gialle? Sì. Sì? Ok. queste sono le antenne e adesso passiamo a creare le ali della farfalla. Abbiamo preso dei pirottini per i muffin e si possono creare le ali della farfalla. In questo modo. Piega a metà. Perfetto. Piegalo ancora un altro po', un'altra metà. Esatto così, bravissima. E adesso dobbiamo unirle. Questa parte qui a questa. Sempre con la colla. Così. Attacca su. Attenzione a non bruciarti. Perfetto. Queste sono le ali e si inseriscono all'interno della nostra molletta. In questo modo. e questa è la nostra farfalla. Queste sono tutte le creazioni fatte con le mollette di legno. Abbiamo creato anche degli aeroplani dove all'interno si possono mettere anche i disegni dei bambini. Oppure utilizzare queste farfalle come gadget da dare alle feste dei vostri figli. Si è divertita Giorgia? Sì. Mi raccomando, provateci. Seguiteci alla prossima puntata di Detto Fatto. Grazie a tutti.